ok segnali misteriosi no chi t'ha detto di man... stavo leggendo... vabbè eh vabbè intercetta dati nemici cioè mi dice cosa mi da 5,1 insieme questi che ne danno 10 devo fare vabbè andiamo adesso vieni questa argenta andiamo allora ciao Yoshi un attimo qui si sta avviando il portatile per la per la chat come va Yoshi come va Yoshi? aia aia no come te lo devo dire non l'hai capito mi sa le guardo solo durante il pomeriggio tra le 5 e mezza alle 8 non ti arrabbiare perchè qui se poi li carico le live che li carico su youtube eh 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 il copyright non è che mi brucia il culo di più già ancora c'è una canzone tua da recuperare di prima che tu avevi messa no no io ci sono sempre portoghese come non mi vedi live portoghese io ho sempre sei tu che forse non controlli Twitch ma ci sono sempre quell'ora potrei potrei mancare ora tipo dalle 3 alle 5 circa quando quando faccio il gioco single player anche Ashin è praticamente di 99,9% delle volte ci sono sempre a quell'ora oh qua ci sono missioni molte missioni da accettare prima è questa so Kaisov mi chiedo ti interagini e servizi come funziona la tua economia? usiamo il denaro vai vai tranquillo spero che è tutto a posto vai tranquillo spero che non è nulla può essere un negociare è complicato è complicato è complicato sì mi chiedi mi chiedi mi chiedi buon lavoro buon lavoro buon lavoro buon lavoro poi poi quale altro c'è qua? è qui è forse forse dentro di ricerca ma marico computer comandante del port manifesto di ritorno 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 di ritorno 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 Tell me about yourself I'm something of a pathfinder myself. Hmm. I'm a celestial observer charting the movements of stars planets and the scourge an Astronomer, you know the safe roots out there We deploy satellites that alert us to new hazards and opportunity But we've lost contact with several key observers. They've simply stopped I Sent a vessel to scan their last known locations, but nothing's been found Do I need to start too nice I hope you could aid our search Certo Even pathfinders need a good map. I'll look into it. I knew you'd understand. And when I can finally reconcile our charts with I'm going to find a point in the first satellite to compare Okay Oh No qui torno indietro Bisogna and prayer ci sono diversi pianeti questi la porta è chiusa giudice Omdahl è comprensibile ok questa è una missione da fare qui dentro stessa ma andiamo ad accettare questa qui ma posso fare il viaggio rapido cosa sentite il canarino giudice Arena non ho mai pensato che potessi vedere il canarino giudice come il primo inizio per entrare la città sei ignorante delle lezioni dovete decidere chi decide cosa succede dipende sull'agrazione leggi sul commercio voglio sapere di più questo devo farle prima eh ma da ora in poi procederò in modo diverso comunque a livello di secondaria sono andato troppo avanti prima queste qua devo farle prima queste secondarie vabbè le recuperiamo ora ma poi vado avanti in modo diverso come va 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 eh perché sono abitato ai vecchi mass effect che erano strutturati in modo diverso guarda questo è strutturato in modo diverso più che altro ma qua c'è questa qua che voleva delle una missione mi doveva dare dall'iniziativa mi credo in modo diverso mi crede deve una cosa io vorrei avala del lo la e la verità è, passfinder, quanto riguarda i nostri storici? So they get... Ah, ok. Ah, sono cominciato, ebbene. Penso che lo cominciassero nel 24. Buono. Buon per te, in senso. Perché lo chiedi a me? Efra è informato della cosa? Ehm, darò un'occhiata. Comunque, poi devo recuperare la canzoncina che hai messo ieri. Poverigio, poi più tardi se passi su Gashin. Ammetto. Allora, facciamo questo. Parla con il giudice Wraken. Allora, vediamo che vuole. Ah, questo è quello delle leggi. Anche se ci troviamo ad affrontare un nemico deciso a porre fine alla nostra civiltà, è importante che non abbandoniamo i nostri principi morali di base. I secchietti devono essere sconfitti. Ma non a ogni costo. Se la libertà della nostra potenzione deve essere conquistata attraverso il genocidio e altri chimini barbari, Allora che vengano la morte e la schiavitù. Pag. 1 di 241. Sì. Parla con il giudice Wraken. Devo parlare con tutti i giudici? Eh, ma io non mi ricordo cosa fa la C6 e le sue queste relazioni, quindi... Mi sembra la sai scrivere due secondi. Era qui sopra. Mi fai passare, signore. Niente. Non si può passare in mezzo a sti due. Quello per cui abbiamo parlato prima. L'Arbiter Renav mi ha detto di aspettare. Ho preparato un datapad di dettagliare le leggi. Le leggi. Come vabbè... 1 di 15983. Sì, che mi metta a leggere tutte le leggi. A parte non ci sono quelle pagine. Ti fa vedere solo la prima pagina. Ti immagini dover leggere tutte quelle leggi. Ma sei fuori di testa. Parla con l'angara che ti ha scansionato. Facciamo questo. Edigo, dimmela, cosa fa? Roll... Vabbè. Mi ha detto che tu non la sai. Hello there. I'm working. Lo so su di me, diciamo. Tu hai scantato. Mi volevo essere scantato. Non ho scantato. Sei un alieno sul mio mondo. Cosa non sarei interessato? Puoi aver chiesto. Fine. Ti avvicinerai a un analisi di specchio di tua biologia? Tu non mi ha detto il tuo nome. Danfra. Biologico. Questa è la mia casa. Ti cercano di qualcosa di specifico? Abbiamo scantato molte semplicità. Non è proprio il tuo corpo. Noi ho scantato. Non mi non mi ha detto che tu avvicinò il tuo stesso. Non mi ha detto che tu avvicinò. E' un attacco di più. Non mi ha detto che tu avvicinò. Ero in disparcini. E tu sei. Perchiamo la distinzione. La famiglia è il nostro colono al sogno. Entrete questo? Perchè non è più vero Io vimbi a questa galassia con la mia famiglia Ho scoperto mio padre sul giorno che ci sono arrivati Ma tu ancora attenzione il suo legato Il sava questo in fine La famiglia è tutto Non solo la nostra ora Ma i che seguiamoci Cosa la tua famiglia sembrava in cinque generazioni? Tien? Quanti di voi saranno? Tu sei preoccupato che ci saranno più di noi Buongiorno, Pathfinder Non ho voglia di leggere Sono propaganda praticamente Della resistenza Non mi interessa leggere Già l'altra volta ci avevo dato un'occhiata a alcuni di questi Attimo ho visto che è scritto un sacco Dammi due secondi più Sì 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 Però accogli tutti questi messaggi e mandagli a Nexo Di nuovo questi due Avevano rotte coglioni Sì 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 Ho fatto un livello senza fare nulla Ho visto perché Continuo a fare questo No Non fai a nulla Volevo leggere Eh no mettiamo questo No Adresa che Ah Ok Ho capito certo a quel punto conviene mettere la Sansi però se raggiungi un AR decente giustamente io non so se lei c'ha costellazioni che si ricarica la ult un attimo solo grazie grazie ah ma questo a prescindere quello a prescindere di ogni usabilità o roba per caso o è tipo nella ult quella roba hai capito è nella ult aspetta gli do un'occhiata io se veloce veloce ah è la C4 ce l'hai già tu la C4 allora un po' la C4 ti aiuta a vogliare allora devi trovare una un giusto equilibrio tu io non lo so non l'ho mai buildato trovo un giusto equilibrio in base al team e vedi quanti AR ma credo che 150 ci vogliono 150 di base credo che io li dovrei mettere 150-170 che puoi ottenere anche con la pride appunto le sub stas volendo o sennò gli dai una favore e se vame un po' la c4 il questo è un po' la c5 Non si chiama Spine Si chiama Pride Che lingua te lo devo dire Allora Continua a sbagliare No non è quello che vuoi Sono due armi diverse Sul Nexus che incarichi io Attendi una mail E qua la mail non è ancora arrivata Mi sa che andiamo avanti con la storia oggi Ah la semina l'ultima serie La popolazione angare che mi ha inviato Ogni volta due specie mi sono incontrate Nel senso che paura sono stati da buono ormai Ok vabbè Questo è contento che il contatto è andato bene Punto Guarda Dove Incontrati con Vibi Nel suo alloggio nel Nexus Ah Nel Nexus abbiamo delle missioni Allora Andiamo sul Nexus Vabbè delle cose da fare sul Nexus Anomalia? Ma dove? Su Aya? Ma che ho controllato tutto in teoria Posso rispuntare l'anomalia Ma quando ma? Ma questo è un nuovo pianeta? No questo è il pianeta E questo è Aya Non è un pianeta Un pianeta Un pianeta Un pianeta Un pianeta Un pianeta Non sono detectati nulla Se fosse qui Si fosse qui È usato Dessertato? Dessertato 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 Non abbiamo nulla Proviamo un altro pianeta Incontrati con Pibi Si vabbè ci siamo capiti Però si chiama Pride Sono due armi diverse per quello Ecco Ah vabbè Ti chiamiamo Vincenzo Allo posto di Pietro Va bene Facciamo così Alla stessa cosa Tanto Sempre Da parte sempre la tua famiglia È il tuo stesso cognome È il tuo fratello Quindi che cacchio fa È la stessa cosa Capito? Cacchiamo Sky E' come se ti chiamo per il cognome Basta In tua casa ti chiami Rossi E' come se ti chiamano solo Rossi E' come se ti chiamano solo Rossi Il nome è quello è quello Capito? Che ti sbagli Però se ti correggono Non è che ti puoi incazzare Se il nome è quello è quello Ok 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 Scusa Di solo Su alloggio, prima non sapevo manco che aveva un alloggio e un nexus qui Unlocking, vieni in Che in mondo è questo? Ah, c'è un relictum qui Guarda quanto è ordinata, è ordinatissima, Pibi Ta-da! Il mio progetto, SHI, è completo SHI? Mi sembra che un SHI per me Solo un progetto di concetto Ho scoperto i suoi promessi remnente per vedere se potrei poterlazionarlo me stesso Ha funzionato! Ora posso costruire un modello di campo con i protocolli di combattimento che combattono per te Quindi, ehm, cosa pensi? Teniamo Suvi e Gil guardare Se lo guarda, portarla al board e attraverso il modello di combattimento Ok, credo che ho capito Oh no, ho scoperto di cercare la... C***o Chi è? Calinda Non sapevo che stavate ancora utilizzando questo hole Chi è il tuo amico? Calinda, non è il tuo un scritto Non si conosco? Io c***o Non sono tutte le persone che sono il soggetto C***o chi è il ragazamento della sua Quattro facendo le due Anche per le ragazamento sono? Inoltre anche per le ragazamento di incontro C***o non è un progetto che ragazzi Quello che mi sentierà Стare con il cuotere Non sono più riguardo, Lee Eri Nei inginigna alla ragazamento tutti Nonoe il raffore di combattacare Nriccio Anche per i giro di confezione Ovo, non è C'era una cosa che avrebbe avuto con il mio amico vecchio amico. Mi scopo per la intruzione, Pellisaria. Mi piacerebbe vedere che ti avessi avuto. Ta-ta. I'll walk you out. Quindi, vuoi parlare? Oh, Linda e io andiamo in un'altra volta. Abbiamo un'initiativa insieme. Per un tempo eravamo come una famiglia. Ora non siamo. Quando vivi mille anni, writer, le persone vengono e le persone vengono. I entanglementi sono sbagliati. Come i luci. È tempo di riempire questo. E' finita. Ma come puoi dare tutto questo? Ha! Guardami. Dobbiamo fare così. Io volevo fare l'altro. Opzione, non quella. Non ho capito che era un'opzione. No! Vittorio su World, va a un posto su World. E voi, c'è di un'antica. Allora, questo è il riassunto di quello che ha fatto fino ad ora nella stanza. Sì, però, hai citato tu. Non va bene. Hai citato. Quindi non va bene. Non dovevi andare a guardare. Ti rovini le sorprese? Oh, non ho capito che bello ci trovi. Sì, vabbè. Come. Se il prigione tale è il più facile da sbloccare in quel momento, comunque. No, se è che sono un classico. Quindi, eh, cosa pensi? Ovviamente non è. È quello che fa così... Ci tengo a te, questo volevo dire. Hey, spero che puoi parlare con me. Qualcun... Non sei un cutie? Grazie, Rider. È bello. Dio, ma in realtà. Il pasto è il pasto. Sono bene. Le cerche di bimbi hanno sblocato il potere V-Lictum. Moro Rider può richiedere il supporto di Zapp. Un osservatore Lictum controllabile. Può trovare questo potere sulla schermata abilità tecnologica. Ah, era lui! Quello che c'è scritto è sconosciuto, mi sa. Ma che senso ha? Io posso chiamare la torretta d'assalto? È quello lì. Cioè, io metto due... Due... Due rubi a caso... E faccio danni. Che senso ha? Oi! Ah, si è apertato la consola per quello. Posso giocare passivamente, guarda. Non so se resetto i putti. Siamo riusciti i miei nuori peti e essenziali. Siamo tornati alla Tempesta. Non so se... Mi viene quasi l'idea di... Di resettare i putti e provare sta build. Il problema è un altro. Perché ogni volta che resetti si aumenta il prezzo, se non sbaglio. Probabilmente sarà così. Da resetto. S'era andato pure a guerra a guerra, l'ho re visto. Niente, ti sei spoilerato tutto. Però non ho fatto nulla a guerra a guerra. Si sta una missione qui? Oh, nulla. E pensa che ancora non ho finito le cose in giro. Quindi... In realtà è lunghissimo. È molto più lungo del primo, decisamente. Che due. Forse è raddoppiata potrei la lunghezza. E ridendo e scherzando potrei finire il... Il medaglio. Non sto scherzando. Perché potrebbe venirmi... Col fatto che ho scoperto un sacco di QR code. Potrebbe venirmi molto... Molto più facile rispetto al primo. Ok, è un momento di vedere un altro ricordo. Di veloci ricordi. Che scotto quello. Dov'è Alec? E quando non sono, le pillole aiutano. Ok? Ok. Bene, parliamo di qualcosa di altro. Alec? È in prima persona. Perché è semi, in effetti. Che è di strada. Ok, padre. Questo è molto più difficile. Certo, certo. So, eh... Ho sentito che l'Allianza ha un nuovo Mako in l'argomento. Si, la chiamata è che potrebbero essere riusciti a questo da un'argomento. Certo. Ci sono dicendo che potrebbero avere uno per la prossima spedizione. Ti stai ancora spettando l'attica di Traverse? È incredibile. Ci crediamo che potrebbero trovare un sito di Prothe. no artefatti ancora, ma stiamo ancora cercando ah, ricordo il giorno che hanno trovato i primi ruini di Mars cambiò la mia vita conosciamo sicuramente che gli alieni erano reali abbiamo proprio bisogno di trovare sì, ogni giorno che ci sono riuscito mi guardo un mass effect relay e mi stia pensando, cosa è sul l'altra parte? non perdere se non perdere se non perdere cosa è più oltre la montagna si mora un po' inizia non c'è la possibilità, è nel nostro sangue tu abbiamo infecciato la tradizione inglese suona meglio quando ci sono le battute, le battute inglesi sono superiori a quelle italiane nulla da fare in italiano li liquida nel modo adattato e male c'è come fai io lo avevo a te diretto così ma perché storpiare le cose quando sono così adesso sai perché spesso la vita è freneri spesso la vita è freneri la gente si tratta di lavorare scott e noi stiamo cercando di cercare la nostra vita un course che sembrava essere influenzato dal tuo padre sì, bene o bene o bene i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi una forma di symbiosis sicuramente sicuramente però non è sempre più beneficio ci si tratta di rischio il giudizio è ancora 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 inoltre i fondamenti emozionali tra la famiglia sono stati chiariti a me quel giorno Detecto le memorie addirittime che sono inoltre. Possono ottenere le risposte. Ok, continuo a lavorare. Questo è tutto per ora. Ok, poi abbiamo finito se ci sono cose nel Nexus per ora. Ok, poi è scritto Serious. È una nuova parola. Ok, qui non c'è nulla. Possiamo andare a vengare al truck e andarcene da qui. Ok, che missioni secondarie ci sono ancora? Allora... La legge è piena di gioco delle maglie della sicurezza. No. In attesa di pipi, corar per attendi. Naga sull'arca salaria, questo non possiamo farlo per ora. Trova dei mondi da valutare. Trova Taldir su Avarle. Questo lo dobbiamo fare su Avarle. Trova il campamento Turian. Probabilmente su Avarle, esatto. Eh, mi sa che ora andiamo su Avarle. Regalizzo l'antico luogo dello schianto di Avarle. Esplanamento point nel secondo satellite scomparso. Scambio di favori. Questa Vold. Vabbè, per ora non ci torniamo. Trova una pianta sua aia per Suvis. Scanzioni in locali della tempesta in cerca di anomalie. Queste di architetto non le faccio per ora. Pure quello per ora, lasciamoli. Ok, possiamo andare... Possiamo andare sulla nuova zona, Avarle. Quasi finalmente, posso dire. Ah, è durato meno di quel che pensavo. C'è qualche secondaria ancora, ma non la faccio ora. Perché mi riesco ad andare sul nuovo pianetto. C'è qualche missioncina secondaria, poi la finiamo dopo. Non è un problema. Che dato sicuramente ne spunteranno altre anche su Eos. Possibilmente date da un altro pianeta. Vai a controllare quella cosa e ci devi tornare. Posso parlare? Potremmo parlare? Pathfinder, avete un nuovo email. Ho una mail? Le mail di Pipi. insomma ai 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 insomma i angari non posso chiamare un archivio della storia sembra una cosa super noiosa gli servirebbe qualcuno con più fantasia la questa volta mi ha visitato passa a trovarmi da dove le parti d'accordo pibi va bene allora in teoria di esplorare lo esplorate tutti a parte questo che ce l'ha conto si potrebbe triggerare anche ai cinemati andiamo ad avarl prima riandiamo in realtà ci eravamo andati ma non ci sono atterrato avarl è un altro pente ghiacciato nooo non dirmi che un altro è questa giungla di lussureggiano ah no giungla vabbè c'è una parte ghiacciata guarda quanto è grossa la parte ghiacciata si teniamoci qua si teniamoci qua devo controllare una cosa in realtà vabbè ormai scendiamo e vediamo un attimo e poi l'assistema l'ho conto era una città di Angaran ci saranno i padri e i buoni clienti per un approccio sicuro anomalie sui sensori qualcosa grande possibili hostile prendendo un attimo che abbiamo trovato qualcosissima che abbiamo trovato qualcosissima che abbiamo trovato qualcosissima cosa sono questi cosi che volano? ma sono giganti ma sono giganti ma sono giganti sono figli però eh ma sono giganti il riuscix ok prima ritorniamo sulla tempest purtroppo dobbiamo rivederci la cinematica queste cinematiche sono obbligatorie non si possono manco disattivare che rottura non si apriva ho detto perchè qui possiamo fare il rest pack 520 se lo rifaccio ok se lo rifaccio 1020 aumenta sempre giustamente io voglio sbloccare questa per sbloccare questa cosa devo fare 9 punti abilità e investiti in tecnologia ok saluta danni raggio rigenerazione salute rigenerazione salute quante velocità di ricarica quanto ci mette a ricaricarsi e qua c'è da essere scritta 24 secondi non sono pochi ma la durata quant'è è quello il fatto vuole capire quanto è la durata di sta roba e allora facciamo così ora vediamo subito quanto due certo certo sarà potente no testiamo qui e Vabbè, mi scordo sempre che devo uscire da qui. Ok, comunque è bella, eh, guarda che paesaggio c'è qua. Cioè la durata è infinita? Cioè per me potrebbe essere decisamente infinita la durata. Cioè non c'è scritto una durata, capito? È infinita, mi sa, fin quando non muore. Ma a sto punto, cioè... Mettiamo in rigenerazione salute, cioè... Danni, raggio e V, 200% salute. Il raggio è da lontano. Danni missili. Raggiungo i missili esplosivi dell'astronale Livi. Armi in reagio standard non viene sostituita. I missili innescono le detonazioni combo. Il raggio di Livi ha una probabilità di innescare elettricamente i nemici. Per detonazioni combo distordirli. Aumenti danni contro scudi e nemici sintetici. La cosa è? Vediamo i cannone, i missili o lo stordimento? È più danni contro scudi. Direi più stordimento e danni contro scudi. in questa settimana. Tauretta d'assalto. Cosa pure Il tempo di ricarica è 24 secondi 100% velocità di ricarica Quindi ci mette 12 secondi Qua non c'è scritto nemmeno la durata Quindi suppongo che è figa Ma qua ci sta la velocità di ricarica Perché magari la riposizioni Danni torretta Portale collegamento Focotum Quando è vicino al suo creatore la torretta si ripara automaticamente Tramite collegamento con octotum Migliori tempi di ricarica per i poteri tecnologici Oh buona Questo è più utile Penalità di difesa corazze 100% Colpi alla torretta raffreddano i nemici Riantando e indebolendo le corazze Il fuoco estenuto può congelare bersagli Buono A corto raggio le torrette usano Angea fiamme a portata limitata Che brucia i nemici Casando loro bonus sulle corazioni Scandano i nemici Di una trascensione combo Preferisco questa Decisamente Dove scegliere un terzo potere Inceramente ce l'abbiamo visto Non mi piace molto Non c'è fiamme a portata limitata Dani prolungati al secondo Dani prolungati al secondo Super raffreddata Che congela l'inversale Inescando i perdonazioni combo Il congelamento rende offensivi I nemici Non corazzati E indebolisce le corazze nemiche Ma non è effetto Sono nemici schermati Aaaaaaah Con 30 tattica Sicuramente diventi invisibile Facciamo il lancio Siamme La velocità di ricarica Da così quanto ci mette Scusa Ma niente profilo Metteremo ingegnere Bella madonna Ma non ci mette un cazzo Già di rigenerarsi Praticamente lo posso spammare Ok perché l'ho fatto poco No in realtà ci sta La velocità di ricarica Ci sta Perché tanto qua Raggio danni raggio Danni prolungati 50% durata Metteremo la portata Quanto arriva lontano Questo è buono Cioè La velocità di ricarica Raggio danni No È l'ultimo sbaglio Non l'ho letto Questo qua che fa Nemici in fiamme Infliggono il 50% Danni in meno 65% danni contro Corazzo No questo qua Che dicevano Meno danni Direi Però il fatto che Io voglio vedere una cosa Eh Vedete c'è altre riduzioni Questo non è male Quanto ci mette così Vediamo Io metterei comunque I danni Metterei danni qua L'ustione è l'effetto Secondario Quindi non mi interessa Meglio raggio danni Ma in realtà È meglio questo Mettiamo raggio danni Cioè Dovrebbe arrivare Tipo fino a casa mia C'è un drone accanto Sarà la classe Questo qua Che i nemici Fanno meno danni Più danni contro Corazzo Contro scudi È bella domanda Scudi Si trovano più spesso Questa qua è buona Penetrazione Le difese elementare Elementale Eh Questo non lo so Mettiamo contro Corazzo Di solito Gli scudi Li facciamo fuori Facili 30% bonus Danni detonatori Tecnologici Danni elettrici Contro sintetici Questo qua Facciamo Penetrazione Difesa elementare Decisamente Sistema usiliare Durato effetti Tecnologici Forza tecnologia Danni macchine Tecnologiche Qua dobbiamo Arrivare a queste Limite peso Armi 100% Velocità Innesco Combo No Vi siamo Più Limite peso Di armi Durato effetti Tecnologia Agile Effetti Tecnologia No Mettiamo Questo Questo Potenzio Potenzio Tutta la squadra Danni poteri Compagni E dalle macchine Tecnologiche Va bene Rilazione Rilazione Square Rilazione Salute Macchine Tecnologiche No Resistente Le danni Durante Le animazioni Non mi Servo Senza Danni Per Alleato Uh Questa E' buona Praticamente Avrò 6 Per 4 24 Resistenze Di danni Che non Dovrebbe Essere Ma Nel L'agricione La salute L'utilizzatore Compagni Squadricine E macchine Per 3 Secondi Dopo L'uso Di Potere Tecnologico Questo E' buono Mettiamolo E il resto Li possiamo Mettere Li mettere qua In fucile a pompa Visto che usano i fucile a pompa Meno peso Più munizioni Meno peso Mettiamo L'acità di ricarica O capienza caricatore L'acità di ricarica E poi questo L'ultimo Anche se potrei Tranquillamente Usare anche I fucile d'assalto E i cecchini Ma io Attacco da vicino Anche perchè C'ho il raggio di fuoco Quindi Incursore che fa Precisione Armi Stabilità Armi L'agricione Tecnologia Ok No Lascia un giugniero Comunque Questa è la torretta Questa è la torretta Buona Ma non ho la macchina qui Quindi Questa è in La relazione 啦 Anne Questa è la cama Questa è la Volevo sbloccare subito la stazione qua, ecco. Ora posso usare armi più pesanti. Dormi un attimo. Questo quello dura all'infinito, fin quando non muore dura all'infinito. A me sembra forte. Continuo a seguire. Tugna FPO. Mettiamo, se si può, i proiettili. Danni di penetrazione, pure questo non è male. Ok, vediamo dove dobbiamo andare. Contatto agli scienziati di Pela. Camera pulizia ionica. Settimana scorsa abbiamo fatto una scoperta incredibile, nella goal abbiamo rinvenuto in una metà risalente al primo del francello. Da lontano il luogo dello schianto sembra perfettamente conservato, specie considerando che è rimasto esposto agli elementi di Avon. So che Kirian mi ha rincaricato di studiare il monolito, ma forse potrei fare un salto là sotto per vedere se c'è qualcosa per avere. Sì. 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 All'infinito. Terminale di comunicazione. Sono felice di sapere che che non ho riaggiato il tuo centro ricerca. Qui, purtroppo, abbiamo avuto meno fortuna. I vecchi templi ne sono pieni. Stanno cercando di smantellare le tecnologie elettriche. Noi proviamo a rispingere ma nonostante in forza resistenza sono troppo numerarsi. Il comandante ordinato si sono ritirato. Soprattutto i templi ti interessavano. Non c'è nulla da fare. Stiamo per isolare l'aria. Nessuno potrà entrare e nulla potrà uscire Fai attenzione, Kiran I pericoli sono molteplici Tra l'altro la scena Lucio Grazie per aver portato questo fatto alla mia attenzione Un luco dello schianto ben conservato Darei qualsiasi cosa Purti vederne uno Cercherò di mandare qualcosa A dare un'occhiata Probabilmente sarà un ben difeso Per favore, non farai arrivare notizie a Thorvald Di sicuro vorrebbe andarci di persona Ma non sarebbe in grado di affrontare quei pericoli Se finisse per restare ferito Non potrei mai perdonarmi Fai attenzione Ti auguro Geli sereni, Avela Maria che stai f... Kiran, di sicuro hai saputo dell'attacco sul sito 7 La partita del dottor Vishal E' stato un duro colpo per la comunità scientifica E ora buona parte dei ricercatori di questo sito Non ha bisogno di nuove insegnazioni Molte raggiungeranno Aya per riprendersi Ma ce ne sono alcuni che vogliono ricontinuare a lavorare qui su Avald Uccidate il tuo campo come luco di transizione So che le risorse sono limitate Ma il tuo sito è l'unico ignorato da Iket Voglio che appena dopo aver visto morire il loro superiore Queste persone si trovano nuovamente in pericolo E poi sicuro una mano sul progetto del monolito ti farà comodo Pensaci su e fammi sapere domani La picoletta mental, si prudente Kiran, stai bene, vero? Ho sentito che Iket hanno salito all'unico alla città vecchia So che tu sei dall'altra parte del pianeta Ma per me è comunque troppo vicino Fra la fauna e Relict, Mavarle, è un luogo particoloso Marley e Nestor sono preoccupati per te Lo so anche io Il tuo lavoro è importante, lo capisco Ma prometti alla tua vecchia mamma Che se la resistenza darà l'ordine di evacuazione Tu lo rispetterai Senza tirare fuori la sordità Come la conoscenza vale il disco Ti ho già dovuto rimettere il senso troppe volte Quando eri giovane Ho bisogno di un po' di tranquillità Tua madre E qui manca tanto E porto da Aya Rochelle Ho allegato i dati raccolti durante l'operazione Aya Su Aya per la mappatura sul flagello Durante la nostra ricerca abbiamo scontrato alcune regolità Per lo più si tratta di polvere Ma forse vale la pena che tu ci dia un'occhiata Se il materiale non dovesse essere originato di Eleus Sarebbe una conferma della tua teoria sulle colonie Ovviamente si tratta soltanto di un nipote Doveste inviare qualcuno a raccogliere dei campioni Però ripeto Ho pensato lo stesso di mandarti tutto quanto Se vogliamo risolvere il mistero del nostro passato Dobbiamo scoperare Che le stelle ti guidino No marico No transporti disponibili Emergencia di supporto per catattacli All of them All of them Perchè? 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 è nulla è morto è morto fino alla fine, lui ha diventato è meglio aggiungere Jall Jall, la Kett'e partita di attaccato a Thaldir la sua vita inizia a prendere la sua vita inizia a prendere sorry la Kett la un'unica persona che potrebbe arrivare a Axul è la Moshai, spero di farlo fuori di questo ha sempre stato in scuola quando si tratta di Axul no da qui non ci va c'è il clutch come faccio a uscire da questa zona? questo è il modo, non posso essere un trappato qui dentro e i fanatici di Ganon si amano tutti gli alieni e probabilmente avvicinare a scuola si amano se devo usare il Nomad qua questo è vero That's it for now. Andromeda Pansom will detect in nearby. I have to discord the Trugger's. I can't believe it. If I can't... ...I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Whoa! Let's see you deal with this! Mi piace però eh, non è male, è forte come classico di dentro, molto forte mi sembra. Volevo sbloccare qua i punti di trattasporto per prima cosa. Questa è importante, perché sono più particolari, devono andare solo a piedi. L'altra è sempre più pesante, con il Nomad. If those floaty remnant bots try to push us off the edge, I'll be mad. Stay alert, you don't know what's down there. Don't trust any of this remnant stuff. Don't trust their giant ditch. Activating automated forward station deployment. Sì, non è vero qua c'è un altro di questi pianeta un po ostico comunque un po tanto ostico no adesso è caduto andiamo all'altra parte per non ci fare mi stavo chiedendo mi adoro rocchi questo è da sistemare non si fanno nodo tecnologico integrato a casa non mi fanno a scondere la cosa buona è anche quella quando attiva i poteri mi occuperò vita molto forte come cosa ma cosa c'è quello ci devo andare sotto unica allora non 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 Sì La c'è qualcuno Dov'è? C'è qualcun altro E' di dove? Infatti è forte il drone Ok il drone è forte Veramente Mi piace E' mortale poi Sembra danneggiato Ma in realtà non lo è Hostiles ahead! On to the next one E' morto Ok ogni tanto mi conviene ucciderlo e rifarlo io Quando non ci sono combattimenti Vabbè è praticamente mortale Duro un botto Abbiamo un'astronave antica Antico casco da pilota hangar Porta la reliquia da velo su Aion Ok Che dove ho finito Eh qui sopra non ci possiamo andare perché c'è il ponte Qua che c'è? Quanto basta? Cerca su Averle Mi sa che forse colonizzeremo anche a sto posto C'è la vivibilità Non ne sono sicuro Finora tutti i posti dove c'è una vivibilità A parte Aia In effetti Aia però no Spero mica abbiamo migliorato la vivibilità Su Aia già era vivibile C'è la vivibile Non ne so Non ne so Vediamo Grazie a tutti. 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 Ah, è la cripta? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hmm... Grazie a tutti. 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 a tutti. Prima che... ma... ... 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 L'initiativa era il mio progetto di ritorno, poi Natanus si incontrava la scurga e BAM! Mi sono andato qui. Cosa è successo? Non ho idea. Ho avuto di bruciare. Un fallo come questo dovrebbe essere ucciso. Questi pod sono sturdi, ma la maggior parte della popolazione è ancora morta. Sam non ha trasferito da me, quindi è vivo. Solo non so dove. Guardate, buoni ragazzi. Forse non ce l'ho fatto, forse non ce l'ho fatto. I coloni hanno bisogno di dare. Ok, altra viabilità. Qui c'è una missione. Tecnologia dell'iniziativa adattata. Non credo che questo davvero sta succedendo. Pensi che stavamo... Abbiamo costruito questo campamento da quello che rimaneva del nostro pod. C'è un pozzo che non potremmo arrivare fuori. Abbiamo bisogno di prenderlo con noi. Prenderemo tutto. Bene. Non ho detto ciò che è ancora intacto. Se trovi... ... 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